Cavallo senza microchip. Se sei un proprietario di un cavallo, saprai quanto sia importante identificare correttamente il tuo animale. Senza un microchip, il tuo cavallo potrebbe essere facilmente confuso con altri animali, e in caso di smarrimento o furto, diventerebbe difficile individuarlo e recuperarlo. In questo video ti spiegheremo perché è importante che il tuo cavallo abbia un microchip, quali sono le procedure per l'inserimento del microchip e le conseguenze negative di non farlo. I microchip per cavalli sono un modo efficace per identificare in modo univo col tuo cavallo, fornendo informazioni sul proprietario e sull'animale stesso. Inoltre, in molti paesi, l'inserimento del microchip è obbligatorio per legge, quindi non averlo potrebbe portare a sanzioni finanziarie. Se sei preoccupato per l'inserimento del microchip nel tuo cavallo, non preoccuparti. Il processo è semplice e indolore, e può essere fatto da un veterinario professionista. Inoltre, il microchip ha una durata di vita di almeno 15 anni, quindi non dovrai preoccuparti di sostituirlo spesso. Infine, non avere un microchip può comportare conseguenze negative in caso di smarrimento del tuo cavallo. Senza un'identificazione univoca, potrebbe essere difficile per i veterinari o le autorità locali restituirti il tuo animale, anche se viene trovato. In questo video ti daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire l'importanza del microchip per cavalli, e per fornirti tutte le informazioni necessarie per procedere con l'inserimento del microchip nel tuo cavallo. Non perderti questa occasione per proteggere il tuo amato cavallo e garantirne la sicurezza. Grazie per aver guardato questo video, se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi, da qui vi auguriamo una buona giornata.